Andiamo oggi a casa con queste due icone. Davide che piazza e l'altro capo della sinagoga che si getta davanti a Gesù senza paura di diventare una vergogna e fare ridere gli altri. In gioco erano i loro figli, figlio e la figlia. E con queste due icone diciamo credo in Dio Padre e chiediamo lo Spirito Santo perché soltanto è Lui, lo Spirito Santo che ci insegna a dire Abba Padre è una grazia. Poter dire a Dio Padre col cuore è una grazia dello Spirito Santo chiederla a Lui. Grazie. 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 Grazie.